Abbiamo passato un momento difficile qui in Lombardia. Eppure, invece di abbatterci, ci siamo rimboccati le maniche. L'abbiamo fatto tutti, ciascuno a suo modo. È nella nostra indole e forse nel nostro DNA. Per sentirsi lombardi bisogna vivere qui. Assorbire la nostra forza di carattere. Lo spirito lombardo è così. Unico.